Budapest divisa in due nel giorno che commemora la rivolta antisovietica. Sempre più polarizzata, l'opinione pubblica in Ungheria ha dimostrarlo due manifestazioni, entrambe gigantesche nella capitale. Gli antigovernativi da una parte, capitanati dall'ex capo del governo Gordon Bainai, che potrebbe essere il candidato dell'opposizione unita alle politiche del 2014. Migliaia di manifestanti però sono anche scesi in strada per sostenere il governo del premier conservatore Viktor Orban. Anche loro hanno nel giorno del 56esimo anniversario della rivolta popolare, repressa dai carri armati sovietici, fatto sentire la propria voce. Le forze di polizia hanno presidiato una Budapest blindata, questo per evitare possibili contatti fra i due schieramenti a pochi chilometri l'uno dall'altro.